Ciao a tutti, siamo nel momento della colazione e dopo andremo a fare la prova di slittino, ce l'abbiamo alle ore 9, ciao ciao! Cerchiamo di riuscire a completare questa prima giornata nel migliore dei modi. Buongiorno a tutti, noi siamo sulle piste da scinto. Bene, allora, un invito tecnico, allora, chi ha i guanti, ricordiamo che è opportuno, è opportuno usare i guanti, perché se per caso si cade con la neve ghiacciata si può rischiare qualche scoriazione sulle dita. Pertanto usate pure tranquillamente i guanti. Oggi la gente ti giudica, per quale immagine hai, veda soltanto le maschere. Allora, noi stessi siamo qui in diretta dalle piste, piano piano i nostri ragazzi uno alla volta scendono. Contate che ci sono ben 400 partecipanti, ed è una cosa impressionante vedere come tutte queste 400 persone siano felici di venire giù, come vedete dagli slittini, è spettacolare la cosa, è davvero un'organizzazione splendida. Adesso stiamo aspettando che scendano Annalisa con Valentina Balboni, e sicuramente ti starà da ridere. Allora, ho appena visto in preparazione Annalisa e Valentina, sono pronte per partire, eccole! Di slittini sulla neve, intanto vedo che vi apre anche la nostra Monica, ci presente. Meno chi sei, devi mostrarti invincibile, collezionare trofei, ma quando piangi in silenzio scopri davvero chi sei. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani. Ciao Giorgio, dove siamo? Cosa devi fare oggi? Sei carico? Bene, vinceremo allora, vero? Bravo! Siamo qua sulle piste, pronti per lo slittino. Sei carico? Carico! Perfetto, vinceremo noi, mi raccomando, come sempre. Però sento freni, mi raccomando, eh? Senza freni? Sento freni! Andiamo dritti così, filati verso la vittoria. Secondo, adesso secondo, dal primo fondo, filati. Siamo tornati. Con il 347! Tutto ok? Non è vero, ci siamo ribaltati palesemente in mezzo alla pista, ma poi ci siamo ripresi, vero? E siamo arrivati fino in fondo. Kairi! Saluta Robby! Col numero! Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di esseri umani. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di esseri umani. Siamo alla parata. Saluta! Come vedete c'è la banda che suona. Qua siamo tutti noi. E come potete vedere siamo davvero in tantissimi. Buongiorno, anzi buon pomeriggio. Ci troviamo in un bellissimo bar di Livigno, stiamo facendo una piccola pausa dopo shopping e siamo qua tutti felici e contenti. A partire dal nostro caro amico Beppe e poi abbiamo il nostro amico Alberto, ciao, ecco sì, va bene. Alice, il nostro amico Sopraffino. Lele, saluta dai. Siamo tutti felici e abbronzati perché oggi è stata una bellissima giornata, vero Eugy? Rabi, di qualcosa, di un tuo pensiero sulla giornata di oggi. Bella. Bella, ti sei divertito, abbiamo fatto lo shopping, vero? Ecco la cena qua. Ecco, bene. No, guarda che... L'amore, amore, amore vinto vince e vincerà. L'amore, amore, amore vinto vince e vincerà. E' una serata culturale, abbiamo rappresentato una nostra tipica serata con i nostri dinnici alimenti. Abbiamo rappresentato la nostra campagna. Bravo. Con cosa sono stati fatti questi campi? Spieghiamo qua cosa sono fatti. Allora, questo è un campo di grano. Di grano con i tortellini. Molto bene. Queste che sono, li chiamiamo noi balloni di fieno? Cosa sono? Con i tagliatelle. Le tagliatelle. E le galline come le abbiamo fatte? Le galline con... L'aglio. Con l'aglio. Con l'aglio. I tortellini. I tortellini e la pasta. Cosa è? Cosa è? Il trituratore con salame e le tigelle. Per finire il macero, come è stato fatto? Il macero con il ragù e il pane. Però... Tutto lo corrente. Il camion copiette. Sottesima posizione. Siamo alle premiazioni. 18. No, non c'è. Non c'è, ma ci sono due sedici. Perfetto. Cittadius Mate. 60 punti. A pari merito con Cittadius. Al primo posto. Con 119 punti. 119. Togliamo 19. Anfas. 100. Cocina e la gialla. Vince. Quindi, Erman, che posizione? Quanto siamo arrivati? L'amore ha vinto, vince e vincerà. Credo degli esseri umani. Credo degli esseri umani. Credo degli esseri umani. che erano forati. Mi coraggio di esseri umani. No, non c'è. No, non c'è. Finalmente questa giornata lunghissima è terminata. Sono qua con Valentina. Se ne va di primi hai visto? Primi in classifica. Si è divertita questa giornata? Sì. Una giornata davvero lunga, stancante. A quest'ora sono le 11.20. Domani alle 7 alla sveglia. Però niente. Direi che anche oggi è stata una giornata splendida. E saluto a tutti. Saluta Vale. Ciao. Ciao. Ciao.